Nella puntata di oggi Coppie improbabili senza speranze Come mentire naturalmente Modi alternativi di portare la barba Mi sembra di conoscerti Ma tu sei quella che mente e poi dà le colpe agli altri? No Ah, le somigli molto Cos'è sta puzza? Devi aver scorreggiato quel signore là in fondo Sono un pecorino! Per me è una bufala Come ti chiami? Bara Bel nome, particolare Davvero lo pembi? Ti piace bulverio? E per la carrozzeria? Usi uno straccio per la polvere Ci sono coppie alle quali non daresti speranze Ma che una volta insieme diventano Fantastiche Ni hao ma Mi spiace, non parlo mandarino Oh no Mi sono tagliato con un vetro E mi rimarrà la cicatrice Ma sei serio? Se pensi che la cosa più strana di questa foto sia il cavo Guarda meglio Il signore desidera che gli prepari una sportina con gli avanzi? Oppure preferisce portarli nella barba? Vi saluto! Sì sì! Ecco che la cosa più strana di questa foto la mia